Senti Silvestro, tu giri tutto il mondo e vedi i programmi di tutti i continenti. Qual è la trasmissione più importante nel settore del varietà e del musical? Il migliore show del mondo è chiamato Fantastico. Grazie, grazie Silvestro. Fantastico. Grazie, grazie tante. E a questo punto, scusami una venalità, ma in America, quanto potrebbero offrirmi per fare un programma come Fantastico? A me. Circa 200 milioni di dollari. 250 miliardi, più che accelentano! Qual è l'attore comico che salveresti? Fra tutti quelli che conosci? Il migliore comico che mai vivi, senza dubbio, deve essere... Enrico Montesano. Grazie Silvestro Stallone. Grazie tante. Grazie a te. Ti salutiamo con grande affetto dalla Roma-Italy. Ciao Silvestro! Non mi aspettavo che mi dicessi questo. Silvestro. via salto con grandeviso un periodo di pensato. Grazie mille.